Sentiamo allora Sergio Bonelli su questa italianità di Tex. Beh, italianità, ripeto, fino a un certo punto. Intanto io ricordo a Luca Raffaelli che noi abbiamo abbondantemente dato a Barcellona, città che frequentavamo, anzi festival per così dire, che frequentavamo fino a pochi anni fa, quando c'era un corrispondente interesse da parte di editori, spagnoli, che stampavano tutta la produzione italiana, cominciando dalla nostra ma anche altra. Ahimè, io lo invidio molto perché è in una bellissima città e sicuramente in una bella atmosfera che a lui, io lo so, piace molto. E però se noi avessimo continuato a presentarci a Barcellona ci saremmo anche un po' annoiati perché ormai la tendenza del paese non è più rivolto al fumetto popolare e quindi a quello bonelliano per eccellenza. E in quanto all'italianità di Tex, è vero, insomma, specialmente all'inizio, noi dobbiamo pensare che Tex nasce nel 1948 quando le informazioni che sono a disposizione di mio padre, che avrebbe poi scritto per anni e anni tutti i soggetti, erano piuttosto poche. Mio padre scrivendo Tex doveva basarsi sui suoi ricordi degli anni 30 quando andava al cinema a vedere Tom Mix e Ken Maynard che per esempio, tanto per fare appunto un esempio, erano vestiti come i cowboy da circo e non come i veri cowboy che oggi si vedono nei film più realistici. non aveva a disposizione, mio padre e neanche i disegnatori, lo ha detto, soprattutto loro, non aveva a disposizione né libri né riviste come sarebbe successo poi soltanto una decina di anni dopo e quindi evidentemente ci si basava su dei ricordi agresti italiani. Galepini per esempio all'inizio non poteva sapere che cosa fosse o come fosse fatto precisamente un Winchester e quindi si accontentava di disegnare una fattoria toscana invece del Ranch e poi invece metteva in mano una doppietta che magari aveva visto in mano a suo zio quando andava a caccia in Toscana e quindi dovevamo un po' arrangiarci tant'è vero che Tex per esempio vanta e ostenta delle canottiere come quelle che tutti gli italiani, me compreso, usavano negli anni 40 e canottiere che per fortuna però non era solo italiana ecco per esempio i francesi erano contentissimi di vedere Tex in canottiera invece che in una calzamaglia perché tutto sommato forse l'avevano inventata loro credo di aver letto da qualche parte addirittura a Marsiglia e quindi per fortuna questa interzionalità di Tex ci ha consentito per esempio per anni di vendere i diritti d'autore anche in Francia e poi per certo sì certi riferimenti specie nel passato ci possono essere e sono giustificati e oggi invece ci sforziamo evidentemente abbiamo tutti i mezzi a disposizione una libreria pressoché infinita beh certo oggi la situazione è immagino ben diversa in quanto a stimoli insomma ha possibilità di rifarsi ad altre immagini sentiamo Luca Valtorta io volevo fare una domanda a Sergio stimolata appunto da una serie di cose che stanno succedendo appunto vedi la mostra al Comicon di Napoli ma anche il fatto per esempio che al Comicon di Napoli Tex ha vinto, mi diceva prima Claudio Curcio il premio Attilio Micheluzzi come migliore serie suscitandomi dicevi anche qualche polemica tra i... no ma io penso che si ricolleghi benissimo a quello che diceva Sergio Bonelli da Milano cioè che gli strumenti sono forse cambiati oggi gli sceneggiatori di oggi hanno più strumenti e quindi una serie come Tex che ha una potenzialità infinita e lo vediamo dal numero di lettori che continua a rimanere quindi c'è un ricambio anche con i giovani quindi vuol dire che una serie come Tex come Tex seppur con 60 anni alle spalle affrontata da sceneggiatori come per esempio Faraci che ha ritirato il premio riesce ad essere attuale, ad essere fresca e a poter rappresentare forse appunto il fumetto italiano perlomeno la serialità del fumetto italiano io credo che non ci si possa sorprendere di un risultato del genere tra l'altro in giuria avevamo insomma non erano solo appassionati di fumetti avevamo i manetti bros avevamo Vasco Brondi insomma un giovane cantante per cui la giuria era eterogenea e Tex può essere anche questo la miglior serie oggi e non solo perché ha 60 anni infatti questo volevo chiedere a Sergio Bonelli per l'appunto perché non c'è solo questo dato ma c'è anche il dato straordinario che Tex continua a fare nella sua ripubblicazione a colori di cui Luca Raffaelli è per l'appunto curatore con Repubblica quindi Claudio ci ha dato la sua risposta ma volevo sentire appunto da Sergio Bonelli secondo lui qual è il motivo di questa straordinaria longevità di Tex che piace a questo punto a diverse generazioni insomma beh io mi rifaccio a quanto è stato detto a proposito delle polemiche perché le polemiche non mi sorprendono affatto perché ci siamo abituati io vengo indicato da molto tempo come un editore popolare e accetto ben volentieri questo mio ruolo anche perché nel frattempo io se è vero che per certi aspetti noi siamo più che tradizionalisti nel caso di Tex evidentemente lo siamo ma la casa editrice dimostra la sua vitalità la sua volontà di inserirsi in un contesto più moderno con altri titoli con altri autori e quindi a me fa piacere accettare quello che non i nemici ma gli amici e tutti quanti mi riconoscono abbastanza cioè il fatto che io abbia cercato di essere il mediatore tra il fumetto popolare cioè la portata di tutti ma anche con quello diciamo un po' più sofisticato avendo dei risultati io dico sicuramente interessanti non a caso chi ha disegnato la copertina di Tex lavora normalmente con noi e cerchiamo adesso non dovrei dirlo perché lui è di fronte a me abbiamo persino il coraggio di proporle a dei lettori che sono veramente tradizionalisti come è il pubblico di Tex che è inutile negarlo è costituito più da gente che ha qualche filo bianco come ce l'ho io piuttosto che dai giovanissimi